Prosegue la collaborazione tra il Corso Stars dell'Università Cattolica di Brescia e il Centro Teatrale Bresciano, che quest'anno raddoppia. Continua il progetto triennale La Stagione Impossibile, ciclo di tre incontri tematici presso il Teatro Santa Chiera Mezzadri, sul rapporto tra narrazione e teatro, a partire dal 7 marzo. È una collaborazione per noi molto importante e fruttuosa, importante perché ci permette di avere un rapporto diretto con l'Università e soprattutto con i suoi studenti. Dall'altra parte ci permette di avere anche un apporto scientifico sugli spettacoli e le produzioni che realizziamo. Apporto scientifico che si concretizzerà quest'anno con il ciclo Le Scene Madri che avremo nel foie del Teatro Sociale, dove affronteremo il tema delle madri negli spettacoli che andremo a presentare nel nostro cartellone per arrivare allo spettacolo di Medea con la regia di Luca Ronconi che avremo a maggio. A cura della professoressa Carla Bino il ciclo di conversazioni Scene Madri che nel foie del Teatro Sociale si concentreranno sulla figura della madre nella storia del teatro, con quattro incontri a partire dal 26 aprile. Si tratta di concludere il triennio della stagione impossibile che avevamo programmato proprio come un'iniziativa che si sarebbe svolta nei tre anni e quest'anno la stagione impossibile presenta tre appuntamenti dedicati al tema del teatro di narrazione, quindi parola, scena, azione. A partire con una retrospettiva storica che guarda all'aedo, il punto e la tradizione orale più antica per arrivare fino al contemporaneo teatro di narrazione rappresentato da due esponenti molto importanti come Gabriele Vaccis da una parte, il fondatore del Laboratorio Teatro Settimo e Lucilla Giagnoni, e il lavoro che porta avanti da tanti anni in ambito femminile e intersecando il teatro con le tecniche del racconto. E dall'altra parte invece un'iniziativa che si va ad innestare sulla programmazione del CTB che da anni porta avanti i propri incontri del foie, dove noi lavoreremo sul significato della madre in scena. Scene Madri si intitolerà questo ciclo di incontri attraverso i quali esperti del teatro italiano cercheranno di spiegare come la figura materna abbia caratterizzato la storia del teatro e soprattutto la storia della drammaturgia nelle diverse epoche storiche. La collaborazione tra Università e il CTB non è solo occasione per gli studenti di avvicinarsi al teatro come spettatori, ma anche un momento di formazione grazie alla possibilità di lavorare dietro le quinte degli spettacoli.